E salve a tutti ragazzi e benvenuti a tutti quanti su questo nuovissimo video. Già lo sapete, un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale perché manca veramente poco per i 300.000 iscritti al canale. Quindi dai ragazzi! Oggi un video su Among Us dove andrete a vedere due bellissime partite dove ovviamente ho giocato da impostore. Un ruolo che a me assolutamente non piace minimamente giocare, cheat non è vero. Quindi sì, vi andrete a godere due bellissime partite da impostore dove abbiamo e ho fatto assolutamente il panico. Vi ricordo ragazzi di iscrivervi anche su Twitch, trovate qui sotto il link in descrizione dove mi trovate in live tutti i giorni. Dove gioco principalmente a Fortnite e a Among Us. E in più vi ricordo di iscrivervi anche sul profilo Instagram, sempre qui sotto in descrizione. Per non perdermi mai l'assun tipo di aggiornamento, comunque le mie storie, farvi i fatti miei, insomma le solite cose. Comunque tutto in descrizione. Detto ciò ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere e godetevi il video. Buona visione! Spero che non hanno visto la live però, se no tilto. Eh ma Luna era FK, quindi ora già sanno che lui sarà buono. Spero che non hanno visto la live. Devo fare così. Dove? Dove? Stiamo andando nella depurazione, quella in basso da admin e ho visto il corpo di Sophie. Lo stavo per dire, corpi centro-cento a destra, ho controllato tutte le stanze a sinistra. Stavo entrando in ogni stanza. Io ero ancora a finire. Ma aspetta, Dani, ma tu hai visto dei battiti che Sophie era già morta? No, non ho visto dei battiti, ma stavo girando praticamente ogni stanzina e erano tutti in gruppo. Comunque sì, il corpo era proprio sotto admin, quindi o ha fatto il rischio della depurazione, oppure non lo so. Sì, ma siamo andati tutti da destra, mi sa. Ho visto un ammasso di gente. Va bene, quindi doggiamo, raga. Ok. Avete visto cosa ho fatto? Ho ammazzato Corvo e ho preso il rischio di andare a reportare Sophie, così almeno loro non sapevano che Corvo fosse morto in office. Ho fatto una cosa rischiosa, ma che ci stava veramente tanto. Ora, secondo me qualcuno entrerà da O2, quindi secondo me se vado qua, tipo lui lo posso ammazzare, vento, vado in storage. Io appunto stavo per andare a premere il pulsante perché ho visto il cardio. Io sono entrata in questo momento in storage dalla parte di sotto, forse ho visto qualcuno, non so chi fosse, dentro. Io non ti ho visto. Eh, perché c'erano le luci spente, ma io sono uscita da lava e sono entrata dalla parte bassa, infatti ho visto i piedini. Aspè, aspè, una domanda, tu fine eri in storage, ma venivi da? Io venivo da medical. Quindi dai no. Ok, no, perché se tu venivi da medical, capito, non ci siamo avuti di incocciare perché io venivo da lava per quello. Ragazzi, io sono sicuro che la finestra non avrà, perché anche con le luci spente erano macchillato. No, aspettate, aspettate. Vabbè, potrebbe essere fatto univo. Aspettate, Dani può essere escluso da questa lista? Ma Martini, tu hai finestrato e non vi siete incrociati? No, no, perché se lui, a parte il fatto che non c'erano le luci, però se luci... No, Martini, prima, prima. No, no. Ai battiti, ai battiti. No, non ci siamo incrociati. Io uscivo da lì quando le luci non c'erano. Io uscivo da lava, le luci erano off, io sono entrata in storage, infatti ho visto un colore, ma non sapevo che colore fosse. Di Porci e Doni. Quindi che si fa? Che si fa? Ma chi votiamo? Volevo finire il discorso, però dopo... Ci sono le luci spente, qualcuno che ha il bottone lo pioca. Best deve fare più kill comunque, perché a un momento ho fatto 3 kill io e lui solamente una. Vabbè, vado a fare il bottone io. Vai! Bravo Best, bravo! Bravo! GG, cavolo! Siamo stati coordinatissimi, bravo! Bravo! Come avete fatto, scusatemi? Ci avete messo 30 anni a fare le luci, raga. Ora lo potevano cliccare, tipo, stavamo scendendo noi. Sì, sì, ma c'era fine che sei un po' distaccato. Io l'ho ucciso e Best ha ucciso l'altro che arrivava. Vabbè, ciao. Ok, Xera. Vi prosegue. What? L'hai vista anche tu? Sì. What? Scusami. Eravamo io, te, Asso ed è uscito il report. Ascoltami, Loll era il paletto quello in basso che ci va sempre perché evidentemente gli piacciono i pali ed è evidente. Asso era vicino a Storage, io ero vicino a Lollo. È uscito il report. No, era per forza sopra di noi. Lollo, per forza. Non si poteva vedere perché c'erano le luci off, ma eravamo io, Lollo e Asso. Solo che Asso era anche distante da noi. Quindi no, Lollo, Asso non credo. Chiunque l'abbia fatto è un c***o psicopatico. Non lo so. Io sono entrato spedito a Electricity. No, io non sostengo. No, sarebbe stato troppo subito per Lollo fare una cosa del genere. No, impossibile. No, impossibile. Il problema, Lollo, è che non possiamo sapere chi c'era con noi al tramete Asso. Vabbè, schippiamo. Stavo per ammazzarlo comunque a Lollo, eh. Mancava veramente poco. Il problema è che ora Lollo non lo può uccidere. Perché se ammazzo Lollo, poi sostengono che sono io. Andiamo, quanti sono qua? Potrei farlo, eh. Ma, ragazzi, era con noi a destra. Era in Net Bay? Ragazzi, eravamo a destra in 85-65 mila. Io ero nel tunnel quando avete chiamato. Inizialmente c'era anche Asso che penso volesse farci vedere lo scanner, ma non so se poi non capisco se... Poi non l'ha fatto sicuro, però. Dopo di averlo in realtà ho letto male. La missione era scan qualcos'altro. Cioè, ma scusatemi, qui sono stato unico andato a fare le luci. Che stavano andato a fare le luci. Sì. Quindi se ci fosse stato il killer, mi avrebbe potuto uccidere, io non sarei bisogno di... Non sto capendo. Eravamo letteralmente... No, eravamo tipo in cinque. Poi Dani è uscito. Io sono uscita pure. Ah, si deve prendersi con i deboli, allora. Io sono... C'era all'inizio. Sono entrato nel gas. Io sono andato a casa. Dani saliva. Non conosco la mappa. Vabbè, questo non lo puoi dire. Devi fare finta che sia roleplay, diciamo. Sai che mi puzza o la diabla o Asso? Aspetta, perché? Che lo dove stava? Che lo ha detto che stava nel gas. E ha detto che doveva fare lo scanner, ma nessuno ci andava. Ma no. Ma eravamo... Ma siamo stati tipo in sei per vedere lo scanner. Peraltro ti aspettavo Asso, però... Quando mi ha detto che non l'aveva. Comunque lo potevi fare lo stesso, il coso, lo scanner. No, ma volevo farmi vedere da qualcuno per evitare che gente... Comunque ti mi accusasse senza motivo. Sai com'è? Mi accusate sempre. E una domanda, che lo senti ricordi. Il primo round, quando è stato ammazzato, non mi ricordo. Tu dove eri, se ti ricordi? Io sono stato il tempo a fare il paletto, quello sotto il reattore di destra, perché non lo riuscivo a fare. Era complicato e non lo riuscivo a fare. Paletto di destra... Ok, quindi... Quindi dove... Poi o meno... Non lo so, non lo so. Secondo me ha ragione Lollo. Ok, lo Asso. Che facciamo? Chi? Asso? Asso. Non ha votato. Ah no, ha votato la chiamata. Cazzo fai Lollo? Comunque è sbaglio. Se non è Asso, secondo me è Lollo. È certo che non è Asso, eh. Abbiamo mint. Eds win questa. Eds! Madonna, Lollo, non l'ho ucciso io quello là che sarebbe mai reportero, lo giuro, l'ho ucciso Xela. Però state fuori di testa, Uffetto, tu le porti di gesta a Mad Bay che stava elettrisi. Non ho mai detto che stava a Mad Bay, quando mai l'ho detto? Tu l'hai detto? Ma l'ho detto che l'hai detto tu. E Xela fa solo l'unico che sta a fare luci. E infatti Xela ha detto l'unico che sta a fare luci. E per questo nessuno lo sospettava. Comunque Xela, Xela, Lollo lo stavo per ammazzare. Non pensavo che facessi lo psicopatico così, Cristo. Martì, ma cosa mi uccide? Cosa ti? Cosa mi vuole uccidere? No, ma Xela comunque è veramente psicopatico, ha ucciso me fuori un po' e... No, ragazzi...